Sono Damiano Peroni, ho 38 anni e vivo a San Martino in Borgo. Con la mia famiglia ho due bambini, uno di 8 e di 5 anni. Nella vita sono enologo e ho uno studio di consulenza in centro a San Martino. Assieme a Lorenza e gli altri candidati vorrei prendermi cura delle attività commerciali di San Martino, in particolare delle più piccole che spesso sono a gestione familiare, capire le loro esigenze e necessità per aiutarle nel sviluppo commerciale e rimanere nel nostro territorio.